Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli integratori alimentari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali, in base agli integratori date e assunti, grazie per i suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo l'integratore alimentare Depsor. A cosa serve? Depsor ha un integratore appartenente alla categoria degli integratori rinforzanti del sistema immunitario. È commercializzato in Italia dall'azienda Cetrafarma SRL. Informazioni commerciali. Titolare. Cetrafarma SRL. Concessionario. Cetrafarma SRL. Categoria di appartenenza. Integratori rinforzanti del sistema immunitario. Forma farmaceutica. Capsula. Confezioni. Depsor 30 capsule da 500 mg, 15 g. Indicazioni. La vitamina D3 contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario. L'acido folico contribuisce alla normale sintesi degli aminoacidi e dalla normale funzione del sistema immunitario. La fumaria utile per il trofismo e la funzionalità della pelle e per le funzioni depurative dell'organismo, benessere della pelle. Il cardo mariano interviene sul metabolismo dei carboidrati. Modalità d'uso. Si consiglia l'assunzione di una capsula al giorno. Non superare la dose giornaliera consigliata. Avvertenze. Conservare in luogo fresco e asciutto. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Ingredienti. Contenuto della capsula. Agente di carica. Calcio fosfato bibasico. Fumaria. Fumaria officinali selle, parti aeree fiorite e estratto secco tit. Min. 0,04% in alcaloidi totali espressi come protopina, fumaria, maltodestrina, cardomariano, silibum marianum garden. Frutto estratto secco tit. Min. 70% in silimarina totale, cardomariano, maltodestrina, coenzima 0,10. Antiagglomeranti. Magnesio stiarato, silicio biossido, talco. Acido folico, vitamina D3. In voluco esterno, può contenere anidride solforosa. Gelatina. Colorante. Titanio biossido. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento ci vediamo al prossimo, integratore alimentare esaminato.